L'Università LUIS di Roma ha ospitato l'appuntamento annuale per la Digital Economy italiana con il patrocinio dell'Unione Europea. Il convegno, articolato in nove sessioni, giunto alla quattordicesima edizione, si è svolto davanti a una platea di oltre 700 partecipanti, rappresentanti delle istituzioni, start-up e over-the-top. Musica I pagamenti elettronici stanno cambiando i nostri comportamenti di acquisto, quindi quello che serve è maggiore informazione, cultura a tutti i livelli, politici, istituzionali e anche da parte delle authority. Non serve una iperregolamentazione ma serve accelerare i suoi processi perché tutti i cittadini devono poter occupare e colmare il gap del digital divide attraverso informazioni sui pagamenti elettronici. Il futuro è rosso, stiamo andando nella giusta direzione, i pagamenti elettronici stanno dando maggiore economia ai posti di lavoro. Musica 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 Musica